SONO TEMPI DAL CIELO CHIUSO Sono tempi dal cielo chiuso e quel che oggi sembra grandezza non è che prepotenza. Conosci quest'uomo? D'annunzio è come un dente guasto o lo si ricopre d'oro o lo si stirpa. So benissimo di essere spiato, controllato. Raccoglierà informazioni per noi. Niente deve essere tralasciato. Neanche le storielle piccanti. Raccontali che una volta D'annunzio si è portato a casa una fruttivendola della zona. Ne ha chiesto di stelle il sinudo sul pianoforte. Si è messo a quattro zappi e ha cominciato a inseguire la fruttivendola. D'annunzio. Pare che presto ci sarà la guerra. di ogni idea bella se ne realizza sempre una versione più cupa. Questa è la fine di tutto. Non sapevamo quel che eravamo. non sapevamo quel che volevamo. Ed ecco che sappiamo quel che siamo e quel che vogliamo. D'annunzio. 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 D'annunzio.